Ok eccoci qua, allora ragazzi le cose cominciano ad essere tostina, niente da dire Niente, niente da dire Si scherza più Inizialo così, ok perfetto Ci vuole abbastanza tattica, ma sono degli infili bastardi Un tonnello di magia V5 Direi di fare una cosa così Ma se non importa Ok, la vita, 9 strums In ultimo, la possiamo vendere Allora, 5, 1, 2, 1 La sicurezza di una scena, un'altra in fondo, la posa applicerà Ha ridotto farmice Merda Uh, uh, tu su mi stai evitando Assolutamente E' questo Allora tu sei uno strums Sotto che sei più in alto Tiè Allora, cosa ho preso? Questo che è OP A parere mio Allora, su Prendo Salto Eh Via 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 Non mi lascia Via Ok, su Salto Giù Ok Via 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 C 1 2 Eh, vabbè Devo fargli i contraccolpi, credo Sì Non posso male io stavolta Ok Via 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 Stronzo Ok 1 2 3 Perfetto Via così Che ci si diverte Allora, allora Uh 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 Che strage Che ho fu- Ho preso un commento qui Pronto Scusa No Scusa No Scusa No No Via Via No 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 Scusa No Non ho guardato Colpa mia Colpa assolutamente mia Posso venire da si Non ci credo Ok No Vedi qua 5 Allora, Svindlander, via Via Allora Allora Pronti, poi c'è tutta la vita Perfetto Ok Oddio, oddio, oddio Morici Stronza Sai, non ce l'ho visto Andiamo, non ci sono mai Ok Non mi ne la c'è qua Cazzo Non ho preso vita per niente Ok, è troppo chissima Ok, lì, eccoci chi Ho recuperato quasi tutta la vita Mi sono fatto un'altra due opzione Che l'ho anche dovuto consumare E tu mi sparerai, vero? Dio che mi ha voluto Ok, l'ho convinto E' sparsa piena Non lo devo mettere E ci vi domandate perché Lo prendo per i soldi Semplicemente Solo la scelta Wow Non c'è niente Ehm, mettete qua Uno Due Non c'è niente Allora Tattica Prima tu Via Poi giù Poi giù Giù te Si va su Si prende droga E si prende droga Katana Poi prossima su Sata Tu anche Via 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 Champions Katana 2 arbet Di Tramose genere Ok Per il 9 euro e il 92 di ferro Come ho fatto a mancare la nuca? Pensi che non ti abbia visto? Hai la lingua di fuori per là Sporco Grazie Vabbè Nooo Non vale così Guardatelo Quanto questo tronzo Ok Qua ci successe una run Perfetto Allora metterò via Metterò questo Perfetto Prendiamo questo Prendiamo l'erba Proviamoci Come se non ci fossero mani Ok Via via Ho ricevuto Questa è bella 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 Ok ci siamo Minchia quanto è unico Cose importanti le ho Quindi non quello che entra Entra Se non le si stacca Ok Ok Abbiamo finito anche queste Arr Le mettiamo queste Le mettiamo queste Due porte Ok 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 Comunque quando chiudo E' perchè sono in città Che vendo Eccetera Eccetera Porco E' un boss Ok Facci male Oop SILFORD E' un boss E' un boss Potrei fare Non so Intanto la teniamo Allora Via 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 Eccura 1 2 Puffete Puffete Tac Tac TEM Scusate Sono un po' noioso Ma credetemi Ci vuole un po' C'errazione Ehm In vicinante Un atto Non so Perché l'ho pagato Ora Noi Ehm Sì Sì Bugga Non bug E tu Ci darò lo stesso Ma non sto la vita Ok, entri qui giù, giù su, guarda qua, prima che lui è stato qua, devo andare qua, spero che non c'è senso, non mi spari. Ok, è stato inutile, ma, eh, eh, ciao, eh, il diamante, ragazzi, credo sia più forte materiale, serve come non ci fossero mani, no! Ah, comunque ho l'armatrone in diamante adesso, ok, scusate, 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 ok, vado la mia, via, via, ci sono queste, queste qua, mette l'armatrone in diamante, come se fosse la mia, via, 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 via! ok scusate è concentrazione al massimo sto per non vederti amico si curiamoci fuori ok fare questo prendiamo un su oh sono giudati alla fine perfetto no via che stronza sennò un po' di lavoro se lo so mi ha fatto perfino sprecare un'abilità ok mi ridasse un po' di vita ok scusatemi eccomi qua rieccomi ok questo stronza qui nel muovo forse deve essere giù molto gentile giù giù c'è già ok ok mi ho tutto mi ho tutto allora cosa mettiamo giù questo 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 e questa voglio diventare libero è inutile lo so non lo muovo perché sii uno shot uno kill attenzione il biscotto della sapienza ho visto tutto il biscuit in commesa capì il magic white 3 opp sul potium c'è il potium ciao ah dio dio ok ok via uno tu resta tu via dai si so che non dovrei neanche più prendere questo e lo abbiamo oh non scherzavo ma dai tacchete si ma tu via tu via si abbastanza a 10 cibo sinceramente finirò a ridurli su uno ti ero non ti bar pop pop e facciamo boom che cecchino non lo so che mi sto contando di cose che non possono avere roba uno due uno da mamma mia che culo canto doppio salto allora uno attenzione riprovate via ok tu sei un stronzo tutto visto 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 no ok ok tutto metà vita così da ancora ti sai dai 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 아딩 l'inco c'è tutto visto mai mi serve tantissimo mi serve tanto 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 preferisco una shaman in forma però aspettate quello di attacco potrei anche riprendere 1, 2, quante frecce ho? iiii 95 posso perfino sprecarle anche se non lo farò mi dimentico carlo eeeh via tu stenderlo in questa ceppa wow arrivati al qualcosa già buona no stronzo scusate vi mostro dai quello più difficile di tutti a dopo non